ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video di tennis taste oggi siamo in compagnia di una ionex ma è una ionex un po particolare perché parliamo sì della nuova serie vcore pro 97 ma qui abbiamo vcore pro 97 l una racchetta da 290 grammi una soluzione molto interessante e mi piaceva nella scorsa versione ma qui ionex ha dato qualche pizzico di cattiveria in più che la rende ancora più interessante rispetto al modello precedente prima di andare avanti come al solito ti chiedo di lasciare un like al video di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche in questo modo mi aiuterai a far crescere la mia community e ogni volta che pubblicherò un contenuto sarai subito avvisato come è fatta questa vcore pro 97 l abbiamo detto un piatto da 97 pollici schema corde 16 19 un peso di 290 grammi e un bilanciamento di 32.5 centimetri quindi un po più avanzato rispetto alla norma della linea vcore pro che solitamente diciamo si ferma e 32 centimetri della vcore pro 100 anzi vcore pro 100 metto qui il link per chi si fosse perso la recensione per un'inerzia totale di 314 punti che potranno sembrare pochi a tanti ma che in realtà non lo sono perché perché lo diciamo dopo perché questa racchetta ha un senso per una specifica categoria di tennisti dal punto di vista del profilo ionex aggiunge un millimetro a questa struttura e il cambiamento si sente sicuramente qualcosa insomma che ha portato qualcosa di più fresco nei contenuti di questa vcore pro 97 l che anche oggi trovo ancor più giusta che nella versione precedente dal punto di vista invece del manico solito manico ionex una misura abbastanza piena tacco abbastanza dritto quindi un fondello abbastanza scosceso negli ultimi test ho dovuto farci diciamo l'abitudine nuovamente al manico ionex ma dopo un po di utilizzo comunque ho ritrovato buone sensazioni anche con questo manico più dritto rispetto al solito del mercato per quanto riguarda la colorazione vedete ionex è tornata quindi a colorazioni che proponeva qualche anno fa sostanzialmente quindi abbastanza più accesa sicuramente meno sobria rispetto ai modelli precedenti che avevano quel bellissimo verde personalmente l'ho adorato quindi il verde delle ionex vcore pro in versione 2020 ma devo dire che in foto non rendeva tantissimo questa estetica ma dal vivo comunque rende piuttosto bene e comunque ha la sua personalità come va in campo questa vcore pro 97 l è una racchetta secondo me molto intelligente perché propone dei contenuti da racchetta di rango superiore in un peso comunque contenuto ionex ho sempre ritenuto che sulle racchette leggere ci sapesse fare ancora oggi posso dire che tra le racchette al di sotto dei 300 grammi ionex assesta una serie di colpi interessanti vuoi con vcore 98 vuoi con un vcore pro 97 l vuoi con anche con la vcore pro 100 l che ho in testa e vi proporrò più avanti devo dire che ionex propone delle racchette leggere classiche che sanno dare abbastanza ecco a chi ricerca qualcosa di serio ma non un peso eccessivo come detto questa è una racchetta che riporta uno swing weight di 314 punti può sembrare non tantissimo ma di fatto la struttura comunque è solida perché ionex ha inserito comunque il flex fuse che fa flettere meglio il telaio e il flex force quindi un materiale che aiuta il ritorno quindi in avanti della struttura dopo l'impatto pertanto con una rigidità di 63 punti abbiamo un telaio che nonostante una leggerezza che di fatto poi non è che si senta tanto il bilanciamento a 32 e mezza nasconde un po questo swing weight più basso ha una totalità molto piacevole questo telaio è sicuramente una racchetta che non è ferma in potenza assolutamente la potenza ce l'ha ed è anche piuttosto solida sicuramente più solida del modello 2020 perché questo millimetro in più comunque fa il suo lavoro e sia in potenza sia in reattività e anche in stabilità si sente comunque l'apporto che ionex ha voluto dare a questo telaio ora non è una racchetta che è particolarmente esuberante in potenza ma non è assolutamente ferma è una racchetta che nasce con l'intento di facilitare la vita a chi vuole un telaio classico ma non vuole andare ad esempio sulla vcore pro 310 grammi o ancora sulla 330 grammi che attualmente ha un'inerzia di 340 punti quindi veramente tantissimo devo dire che personalmente preferisco la 290 grammi alla 310 proprio perché questa è più fresca ha più spin è un po più progressiva ma soprattutto si velocizza meglio è un telaio che swinga molto facilmente in aria non in maniera facilissima attenzione richiede un braccio tecnico perché comunque una 97 pollici e comunque vuole una precisione di impatto che comunque è al di sopra ecco di tante concorrenti anche di 300 grammi e qualche volta anche di 305 grammi ma non è sicuramente severa è una racchetta che concede molto va veloce in aria risponde comunque concreta risponde reattiva a un descato feeling che non è molto distante onestamente da quello della versione 310 grammi e quindi si pone ecco come scelta tra le due anzi chi vuole una racchetta più votata allo spin è meglio che si rivolga alla 97 l che non alla 97 perché sicuramente la 97 è un po più classica un po più distesa ecco nel modo di dare i colpi ma 97 l permette di spazzolare la palla con maggiore semplicità e il bilanciamento di 97 l comunque offre la possibilità di giocare tanti colpi in maniera un po' più da genietto ecco ti lascia fare un po il fenomeno in campo in maniera abbastanza semplice purché tu abbia un braccio comunque concreto che abbia tecnica e che swing concretamente ecco la sconsiglio assolutamente a chi viene magari da una profilata o pensa di sostituirci una profilata con questa 97 l è assolutamente una classica e si comporta da classica vuole l'azione del braccio vuole comunque uno swing concreto è abbastanza ampio ma per il resto comunque reagisce piuttosto bene parliamo della potenza perché è l'aspetto che solitamente viene un po meno sulle racchette classiche leggere la potenza c'è ma è quella potenza tipica che viene fuori quando il braccio la sa esprimere quindi non fa nulla per trattenere la palla l'uscita di palla è buona la potenza non è sicuramente una potenza gratuita ma è una potenza abbastanza progressiva per cui se si sa esprimere potenza con il braccio è una racchetta che te lo lascia fare e non ti affatica nemmeno tanto perché comunque con queste proporzioni di swing e di peso va sempre molto veloce e si accederà molto facilmente si riesce a portare regime alto ed è adatta soprattutto a chi vuole variare tanto i ritmi o ama per esempio i cambi di ritmo lì si comporta davvero molto bene sempre ricordando che la potenza è quella del braccio sostanzialmente ma la potenza massima che riesce ad esprimere sicuramente è piuttosto buona anzi molto buona per il peso comunque dichiarato dal punto di vista dello spin è una racchetta che regala buone emozioni buone sensazioni perché la palla sale molto facilmente si riesce a spazzolare il 16 19 comunque è relativamente aperto ingabbia bene la pallina ma soprattutto il telaio ha questa reattività che comunque consente anche di qualche strappo di spin e c'è una buona soddisfazione ecco quando si ricerca sia la copertura del colpo sia qualche colpo strappato magari per risolvere lo scambio il top spin quindi è piuttosto buono sia in relazione alla categoria di racchetta sia in assoluto mentre il back è un bel back è un back che si riesce a modulare tende un pochettino ad alzarsi e comunque è un back che va abbastanza spinto ecco ma in realtà il telaio ti porta ad un ritmo piuttosto buono con le sue proporzioni quindi nulla di particolare è un back preciso è un back che si riesce a modulare è un back che comunque scorre piuttosto bene certo non è un back pesantissimo ma è un back neanche di servizio è un back che da buone possibilità di gioco e offre diverse soluzioni anche con un certo side spin in generale sulle rotazioni si fa si lascia forzare questa è una cosa da tenere a mente insomma per chi ha un discreto braccio e vuole una classica che permetta comunque diverse tipologie di gioco di impatto e di soluzioni a rete si muove decisamente bene è maneggevole è solida all'impatto non solidissima chiaramente parliamo di 290 grammi e uno swing weight di 314 punti ma la struttura maggiorata sicuramente è abbastanza ferma sul colpo buona la vuole piatta bene la vuole di taglio meglio quella di taglio quando si vuole essere più definitivi e si tocca anche discretamente diciamo restituisce abbastanza fedelmente il feedback dell'impatto con la pallina al servizio ritengo sia piuttosto completa sempre ricordandosi che non è una racchetta da potenza gratuita ma è un diciamo un telaio che risponde sempre progressivamente sulla botta piatta si comporta piuttosto bene è precisa a controllo ha una discreta uscita di palla quindi si può completare di braccio sul colpo piatto e si trovano delle soluzioni sicuramente non pesantissime ma che in generale comunque sono piuttosto veloci accompagnate appunto da una buona precisione chi cerca l'aiuto in spinta al servizio però diciamo resterà un po deluso perché qui l'aiuto sia nella velocità di braccio nella velocità di esecuzione e non generalmente quindi in potenza ancora una volta l'utente della profilata con questa racchetta ci ricava poco ma l'utente che utilizza una classica e vuole alleggerire il peso anche al servizio troverà una bella soluzione come sullo slice perché gira bene lo slice modulabile si riesce a dare curva si riesce a dare velocità è uno slice non pesantissimo ma uno slice che comunque riesce a prendere quella curva esterna o interna che si voglia con disinvoltura ecco e non affatica consente un buon ritmo sullo slice ma in generale al servizio consente un buon ritmo con delle soluzioni che non sono di sfondamento ma abbastanza solide anche il kick regala buone soddisfazioni perché vigor pro 97l non fa resistenza agli strappi si lascia maltrattare quindi lascia che il braccio possa esprimersi non è un monster kick ma comunque salta comunque resta una palla complessa da gestire e discretamente modulabile in generale è un kick che comunque si lascia modulare e offre diverse possibilità di soluzioni senza esagerazioni in definitiva cosa posso dire su questa vigor pro 97l vi dico questo insieme alla 97 h quindi la 330 grammi è la mia preferita nella gamma v core pro trovo che questa 97l abbia davvero molto senso sia molto gradevole dal punto di vista del feeling perché non fa rinunciare davvero praticamente quasi a nulla rispetto alla 310 grammi certo la 330 è un'altra cosa la teniamo fuori perché 40 grammi sono tantissimi ma è bella è bella è concreta da feeling da controllo lo spin se lo prende si fa strapazzare per cui per chi cerca un'archetta da comandare al 100% senza avere troppo stress dal punto di vista fisico o tecnico anche se un po di tecnica qui è richiesta 97l è veramente un'archetta molto interessante molto duttile e molto anche appagante bene ragazzi io con questa piccolina incazzata mi ci sono divertito veramente tanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao